allora c'è un bordeaux cinesi è una laser da disfattica cinese e l'ho avuto c'è dentro il laserino l'alimentatore e le notiziazioni le notiziazioni in inglese basta ciao c'è anche la prova adesso dobbiamo aspettarla c'è qua qui c'è anche qua e poi questa parte e vediamo il strobo music a e a e u poi vediamo il il strobo controller questo qua poi il switch questo solo nel switch il strobo il 2 al momento controllo questo adesso si muove vediamo l'ultimo che si spegne che no no ho il strobo non ho i sui uno il strobo il strobo è un un provo di protopozi e l'unboxing ciao